Va bene allora, salve a tutti. Dovremmo esserci ormai, credo. Ciao, tu sei Odyssey87, vero? L'altra volta scrivesti di essere tinta i capelli, me lo ricordo, i capelli di viola. Ti ho riconosciuta allora, benvenuta. Dovremmo essere tutti ormai. Sentite, prima che lo dica qualcun altro, lo so che sembra una cosa fuori di testa a trovarci dal vivo, soprattutto se anche solo un decimo di quello che ci siamo raccontati sul forum è vero. Però credo, spero, che possa aiutarci davvero. Non so nemmeno io a fare cosa, ma mi è chiara sicuramente la situazione, perché la vostra è anche la mia e su questo non ho alcun dubbio. E non voglio generalizzare o sembrare egocentrico, ma sono sicuro che siamo stati sinceri in quello che ci siamo raccontati per tutto questo tempo. Tazzo, è da anni che chattiamo, abbiamo buttato centinaia di ore, prima scrivendo e poi parlando in cuffia. Ad uno ad una abbiamo trovato il coraggio per fare sempre un altro passo. Quelli che non sono venuti ancora non si fidano e non mi sento di biasimarli. Sappiamo più o meno da cosa siamo braccati e, secondo me, abbiamo fatto una cosa tipo i ragazzini di Hit, i perdenti di Derry. Non saprei come spiegarmi meglio, davvero. Siamo riusciti a creare un luogo, per quanto virtuale, in cui siamo noi a comandare ed è stato il forum di Avalon prima e la camera dopo. Lì siamo al sicuro perché tutti insieme vogliamo che sia così. Non so come ci siamo riusciti, ma è la verità. Lo so per certo, lo sento e lo sentite anche voi. Non dobbiamo sputtanarci altro. Nomi, dove viviamo, che lavoro facciamo. Non l'abbiamo mai fatto e non credo che sia una buona idea farlo adesso. Romperebbe qualcosa. È proprio nell'anonimato che possiamo difenderci, conoscerci, per provare a combatterli, a tirarci fuori le gambe. Scusa, Feri, non volevo, non sapevo della carrozzina e del resto. Non l'hai mai... non ti avevo mai vista e... Scusa, ho detto una cosa stupida. Quando dicevo che non voglio generalizzare è perché sappiamo che ciascuno deve avere dei motivi intimi, unici e personali per riuscire a vedere. Però non è il come, ma il cosa vediamo ad averci convinti a venire di persona e a cercare una soluzione insieme. Perché noi ne vogliamo trovare una, giusto? Siamo stanchi di parlare con gli specchi o di doverli rompere uno a uno. Siamo stanchi di non poter ascoltare la radio come fanno le persone normali per paura di sentirsi chiamare per nome dalle persone che abbiamo amato o che sono state ammazzate. Le radio, i telefoni, le vecchie videocassette, quelle voci, quei canti, quelle cazzo di domande ossessive che vorrebbero farci fare cose, farci fare del male alle altre persone. Vogliamo capire perché, perché noi, perché proprio noi dobbiamo evitare la metropolitana, perché non possiamo lavorare negli ospedali o perché rischiamo di sbroccare ogni volta che facciamo o non facciamo una scopata con qualcuno, perché certi caselli dell'autostrada sembrano svuotarsi quando arriviamo. Sì, il dio delle autostrade, lui è... è terribile. Vogliamo case in cui possiamo permetterci di lasciare avvitate le lampadine nelle stanze senza temere sfarfallii o di doverle cambiare ogni giorno perché qualcosa nel buio le fulmina una ad una. Vogliamo poter andare da uno psicologo come tutti, senza sentirci dei mostri, senza vedere larve e pus che grondano dai suoi occhi o senza vedergli i genitali muoversi come Vespai o piovre. So che alcuni di noi, Solomon 92, Trix Magister, Jester Sixballoon, hanno conoscenze accademiche ed esperienza come archivisti e che avete accumulato tanta roba anche sull'altra città, sui regni dei sogni e sull'esoterismo ascetico della Kabbalah, della mitologia sumera o delle correnti New Mystic Wave degli anni 70. So che avete tanto da dirci, avete detto che non sarà facile capire o cercare di capire ma lo faremo insieme. Altri, come me, Sir R, McBoy 97 o Jabayoshi 79 invece disegnano quello che sognano o che vedono in giro. Le cupole e i templi degli dei morti, le torri in sfacelo e gli angeli piangenti. Ne sentiamo le voci e le urla ed è difficile far finta di vivere normalmente se la porta della lavanderia si apre su un deserto di ceneri e relitti o se i bambini e gli animali strillano o ti saltano addosso di continuo. Alcuni di noi hanno visto le proprie vite cominciare a sgretolarsi dopo una perdita o dopo che abbiamo commesso qualcosa che non vogliamo e non possiamo raccontare né agli altri né a noi stessi. Anche a me è capitato di vedere i morti a volte, ma non sempre sono davvero loro. Altri invece hanno cominciato a vedere e a sentire cose dopo che qualcuno gli ha fatto del male come non potevamo immaginare potesse essere possibile. Forever Rost mi raccontò della serra, di cosa le avevano fatto quei fottuti broker di merda nel parco botanico e di come quel luogo li avesse poi consumati. Alla fine si è portato via anche lei nell'incendio. Lei aveva deciso di combattere contro il proprio orrore. Lei scelse il fuoco. Per altri è stato il momento in cui si sono svegliati dal coma come Red Morgana o dopo esser stati aggrediti e quasi ammazzati per strada come Tiresia Mail 7.08. Mi avete parlato dei camminatori dei sogni, dei perduti che lì regnano su quelli che vi sono sembrati mondi interi. Cabal mi aveva detto che là ci sono delle persone in grado di darci risposte. Ora non mi viene più da ridere pensando a quello di cui ferneticava Cabal. Però tutti quanti siamo stati perseguitati da Merope. Su internet, in ogni dove, nel web, soprattutto nel deep web. Compariva nelle chat e ci riconosceva ogni volta e ci umiliava con tutti. Parenti, amici, foto di cose che non ho mai fatto con gente che non avevo mai visto. Si aggirava in caccia della camera dopo aver invaso Avalon e ci è andato vicino più di una volta. Ci ha causato problemi con la legge che poi finivano in nulla di fatto, certo, ma ormai la nostra reputazione era fottuta, distrutta, senza possibilità di redenzione. Ha distrutto una ad una le nostre relazioni. Ci ha fatti apparire come mostri. Depravati o persino pederasti, cazzo, stupratori e necrofili. C'era lui in fabbrica quando vedevo le macchine della catena di montaggio sbavare e sanguinare. Era lì da qualche parte e mi fissava con le setole nere che spuntavano dalla tuta lacerata, con quel cappello idiota sulla testa e gli occhietti morti che mi deridevano sopra quel sorriso sdentato. Si disfaceva in una massa di ragni e insetti e correvano addosso a quelli che mi vedevano tremare e anzimare chiedendomi «Ehi, tutto bene, bello?» Mentre ragni e scutigere gli riempivano i capelli e gli entravano negli occhi e nella bocca. All'inizio facevo pure quello che mi diceva di fare. Metti in microonde quel cane, pisciati addosso mentre la commessa ti aiuta a provarti le scarpe, poi sempre peggio, mi chiedeva di fare del mare alle ragazzine e io dicevo di no ovviamente, quel bastardo mi mandava le foto di mio padre mentre mi faceva delle cose quando ero bambino e non aveva mai neppure sognato di farle. Quelle foto arrivarono a mia madre per posta e non servia a niente spiegarle che erano false, come potevo cominciare a spiegarle. Mio padre piangeva in ginocchio con mia madre che urlava e piangeva eppure io provavo a spiegare, ma nel tempo arrivavano altre foto via lettera senza mittente, video per mail, con mio padre e altri ragazzini. Alla fine si convinse di aver fatto quelle cose e si sparò nella rimessa del giardino con un fucile da caccia. Mia madre non volle andare al funerale, a parte me non c'era quasi nessuno. Mio padre non ha mai fatto quelle cose, non ha mai fatto niente di male a nessuno. Era un bravo papà e un bravo marito. Da un anno, credo, da quando mi sono trasferito, mollando il lavoro e quelle poche persone con cui potevo bere fino ad ammazzarmi, sono riuscito a lasciarmelo dietro. Ma l'altra volta, quando mi sono connesso alla camera, ho trovato quella roba scritta col mio account e tutti voi, a tutti voi, so che alla fine vi siete accorti e accorte che non potevo essere io. E quel campanello di allarme che ormai vi mette in guardia già vi avvertiva che era lui, il Merope. È entrato nel nostro Santa Santorum e questo mi fa pensare e incazzare. Non dovrei, ma mi sento mortificato. Ho paura che qualcuno di quelli che non sono venuti possano essersi ammazzati o chissà cos'altro a causa di quelle stronzate. In qualche modo mi ha usato per violare la sicurezza della nostra camera ed è per questo che vi ho chiesto un incontro. Ciascuno di noi lo ha visto anche di persona, giusto? Ci ha spezzato la mente vederlo, al lavoro, in mezzo al traffico, alla guida del nostro taxi, sentirne la voce rancida alla radio o al cellulare. Eppure più ci prosciuga, più ci attacca e più che svela cose su di sé e sul suo mondo. Ci consuma lentamente, ma al contempo questo ci dà qualcosa. Consapevolezza forse, follia, ma siamo in grado di vedere sempre di più il vero aspetto delle cose, vero? Io l'ho visto in diverse occasioni e l'ho disegnato. Era sempre vicino ad accessi della metropolitana o vicino alle stazioni dei treni. La fabbrica dove lavoro ha un'intera sezione abbandonata in cui correvano i binari commerciali. Ora sono binari morti, ma da qualche parte condurranno, no? Io lo chiamo il Merope. Non so perché era il suo nickname, ma anche perché non credo sia un uomo, una persona intendo. Credo sia qualcos'altro più antico, contorto e morente. Lo sento, lo so. O forse è così che ormai lo voglio vedere, ma altri di noi lo riconoscono sotto altri aspetti. A volte è roba da film horror dozzinale, in certi casi ci prende per il culo confondendoci e giocando con il nostro immaginario collettivo, ma ci sono certe volte in cui è proprio lui. Senza stronzate come luci sfarfallanti o reparti d'ospedale improvvisamente vuoti, a volte è solo lui. Ci cerca perché ha bisogno di noi, è legato a noi quanto ormai noi siamo legati a lui e questo lo rende vulnerabile. Deve esserlo, altrimenti non si circonderebbe di senza tetto e disgraziati per farsi proteggere. Ce l'ha con noi e ci vuole distruggere perché possiamo vedere lui e quelli come lui perché potremmo fargli del male. Proprio come i ragazzini di Hit o i sopravvisuti dell'ombra dello scorpione, libri che abbiamo letto tutti fra l'altro e questo mi fa pensare che siamo proprio noi a decidere inconsciamente quello che può e non può fare. Ci sta usando per accrescere i suoi poteri, per aumentare l'intensità del suo manifestarsi. Ciascuno di noi è un creativo a suo modo, forse non di successo certo, ma ci dedichiamo ai nostri hobby con un'intensità rara alla maggior parte delle persone, una creatività ispirata dalle merdate di cui siamo stati vittima nella vita e che lui ha amplificato e portato all'estremo. Disegniamo, scriviamo, immaginiamo come pochi altri in questa città, forse come nessun altro. Una qualità nascosta e non richiesta in questa società, di nulla e che si alimenta di nulla e anche il mero ve lo sa. Ci ha spinto troppo oltre e ora siamo più forti. Noi vediamo il bello e il brutto interiorizzandole e dandogli una nuova forma, un sentire profondo e diverso, anche e soprattutto in relazione agli eventi che hanno scandito la nostra vita, soprattutto alle cose legate a lui. Inizialmente pensavo che ci fosse andato piano e che ci volesse prendere per sfinimento costronzate di poco conto, ma col tempo ha portato tanti di noi a suicidarsi, a commettere cose orribili. Più lo definiamo nella nostra mente, più lui ha avuto potere nelle nostre vite e in quelle delle persone che ci circondavano. Credo, anzi sono convinto, che non potesse farlo prima, che noi glielo lasciassimo fare negli anni. Alcuni di noi disegnano una specie di città, labirinto, sotterranea, o stazioni della metro che non siamo ancora riusciti a identificare. Potrebbero essere i suoi nascondigli. Altri collegano la sua esistenza a figure simboliche nella mitologia antica, ma tutti percepiamo una certa confidenza con lui. Ci repelle, ci terrorizza a morte, ma una parte di noi sente di averlo avuto sempre vicino. Non mi intendo come voi, di vite passate, reincarnazioni o stronzate simili, ma qualcosa di vero ci deve essere. Moloch 69 c'era arrivato vicino prima di farsi ammazzare dalla polizia. Doveva essere un detective o roba simile. Lui chattava nella camera con una lucidità che noi non abbiamo. Diceva di aver trovato le mappe della vecchia metropolitana e diceva che c'erano strati su strati di tunnel e stanze di manutenzione che non avevano senso o che portavano solo ad altri piani interrati. Era lui ad aver tirato fuori la teoria del sottomondo. Un sottosuolo comune a tutte le città che ospita una tenebra senziente e nichilista. Diceva di templi dall'aspetto antico e che non avrebbero dovuto esistere in cui senza tetto lasciavano i documenti e le foto che trovavano in giro come offerte. Roba persa dalle persone che vivono in superficie alla luce del sole. Diceva che ci sono tunnel che portano a quartieri che non dovrebbero esistere in cui l'aria era piena di lamenti e di canti che rimpiangevano la morte di Dio. Quella deve essere l'altra città. Lo so che sembra troppo anche per noi ma io credo che Moloch 69 avesse scoperto più di quanto tutti noi abbiamo fatto finora. Credo che stesse cercando un modo per uccidere il Merope e che ci fosse arrivato molto vicino. Se scopriamo chi era Moloch e dove viveva forse potremmo mettere le mani su quello che aveva scoperto e continuare da lì. Possiamo trovare il Merope il bastardo e fargliela pagare possiamo ammazzarlo. È da qui che partirei. Noi siamo quelli della camera e ormai abbiamo poco da perdere. Sappiamo che Moloch 69 era in polizia e che fu ammazzato quando prese in ostaggio quel broker quello Yuppies e che la polizia lo fece fuori. Non voglio essere paranoico più di quello che siamo ma non mi fiderei né della polizia né di alcuna autorità in città. In questa città sicuramente no. So sappiamo che sono con lui che in qualche modo sono un'estensione di quelli come lui esistono per tenerci ciechi spaventati e incatenati attaccati alla casa al mutuo alle paranoie distruttive di tutti i giorni ed è qui che lui il Merope ha commesso un errore ci ha distrutti. noi non abbiamo più nulla da perdere siamo spettri per il mondo e soprattutto non siamo più soli dobbiamo dobbiamo svegliarci possiamo svegliarci possiamo farlo a pezzi se vogliamo è quella cosa che ha bisogno di noi è lei che ci ha mostrato quanto la realtà può essere merdosa e bastarda e ora lo staneremo e lo cacceremo fino a massacrarlo siamo scarti agli occhi del mondo e questa è la nostra forza più grande useremo i nostri doni e il nostro dolore per darci forza fino a vincere e a liberarci una volta per tutte partiamo da quello che Moloch69 ci ha lasciato col suo sacrificio e andiamo a spaccare la testa a questo Pennywise del cazzo Bentornati e bentornate nel podcast di Comirà Venerdazzi io sono Claudio MoidartGM e in questo episodio affronteremo la terza ed ultima parte della miniserie dedicata a Cult Divinity Lost Divinità Perduta avevo preventivato almeno 5 episodi ma mi è stato fatto notare che si rischia di spiegare e mostrare troppo già forse è troppo quanto ho detto finora da parte mia premetto che ogni volta l'ho detto chiaro e tondo che Cult è un gioco che per i giocatori meno si sa meglio è e sono totalmente d'accordo l'ambientazione di Cult è stratificata e simile ad un iceberg dove le parti esposte non sono che una frazione ingannevole delle profondità multidirezionari delle varie enormi sfaccettature del gioco ma prima di buttarci a peso morto nel mondo tremendo e angoscioso di Cult vi invito a premere segui sulla nostra piattaforma podcast di ascolto di lasciare un commento agli episodi o dove possibile una recensione aiuta tantissimo il podcast a sopravvivere su Instagram e Facebook annuncio le uscite del podcast e altre attività o almeno lo dovrei fare ma è un lungo periodo di fatiche nella vita reale che tanto mi fa desiderare affogarmi ancora di più nelle sessioni di GDR cosa ancora più difficile visto che il tempo che mi scivola fra le dita è ancora più friabile della sabbia scrivetemi pure un commento o quello che volete leggo e rispondo sempre portate pazienza se fra un episodio e l'altro passa un po' di tempo spero di averne di più da dedicare al podcast in futuro anche perché onestamente è una cosa che mi piace e che mi dà soddisfazione detto questo sigla nei due precedenti episodi dedicati al gioco di ruolo cult divinità perduta ne abbiamo inquadrato un po' le tematiche e i due aspetti dell'ambientazione che stanno l'una agli antipodi dell'altra Metropolis e Inferno cosa non proprio vera in realtà è parecchio grossolana ma questa visione ne facilita la comprensione abbiamo capito che né i terribili angelici arconti di Metropolis né i terribili essadici demoni di Inferno divergono poi molto nel loro intento ultimo abbiamo parlato di come i due mondi di Inferno e Metropolis si incontrino filtrando in Elisio il nostro mondo proprio come si presenta all'alba del secondo millennio abbiamo visto come tutte le miserie e i mali che affliggono l'umanità o di cui l'umanità stessa è responsabile sono guidate e ispirate dalle catene dei principi primi degli arconti di Metropolis e degli angi della morte di Inferno ci siamo mossi fra le macerie e immani di Metropolis scorgendo nelle arcane meraviglie ormai in rovina udendo gli echi di una catastrofe senza precedenti la scomparsa di Dio il Demiurgo e la conseguente guerra che sconvolse gli ordinamenti dei cori angelici al servizio degli arconti emanazioni del Demiurgo concepiti per intrappolare l'umanità in una prigione di morale e servilismo di paura e amnesia una prigione dove l'umanità potesse dimenticare la forma divina che l'era propria fin dalla sua nascita nella stessa Metropolis al fine di consumarne le essenze che l'anima umana accumula nel corso di una vita per garantire la sopravvivenza e il dominio degli arconti sopravvissuti alla caduta del Demiurgo siamo discesi la direzione discendente in realtà è puramente descrittiva siamo discesi nel mondo inferno fra paludi di catrame e immondizia fra pianure vetrificate e insanguinate percorse da torme di flagellanti scarnificati e messia della tortura e dell'abuso sessuale intorno alle fortezze degli angeli della morte da cui si tendono le altre catene dei principi primi che tentano e persuadono gli umani di Elisio ad abbandonarsi ai vizi e agli atti più osceni e condannabili al fine di trarne le anime fino in inferno dove verranno torturate fino all'annientamento nutriendo Astaroth e i suoi angeli della morte in questo episodio invece ci concentreremo su Elisio il mondo prigione dell'umanità il nostro mondo dove ciascuno di noi è rinchiuso nella propria cella di sbarre dorate che come nelle matriosche si incastona nella prigione che è il mondo ciascuno di noi è un dormiente un individuo che vive la propria esistenza fatta di impegni lavorativi familiari religiosi e artistici una vita consumata inutilmente alla ricerca dei piaceri materiali all'accumulo di oggetti privi di valore e che sminuiscono la nostra vera creatività soffocandola con input passivi vuoti e denigranti una vita in cui ci facciamo convincere che il lavoro è l'unica strada per il rispetto e per la realizzazione personale che piegare la testa e i propri superiori è una cessione imprescindibile di una larga fetta della nostra dignità che solo così potremmo poi fare lo stesso con chi avremo finalmente sotto di noi Elisio è un mondo ipocrita e intrinsecamente sbagliato un mondo in cui una minima percentuale di abbienti detiene la maggior parte della ricchezza un mondo in cui i poveri incolpano se stessi per la propria condizione compatendosi e convincendosi del proprio fallimento come esseri umani e che chi possiede di più in fondo se lo è meritato perché più abile bravo intelligente e meritevole di vivere sulle spalle del 90% della popolazione mondiale Elisio è un mondo di frustrazione affettiva di amicizie vuote e di comodo di rapporti familiari distruttivi e malsani di abusi psicologici e fisici che piovono sugli individui da ciascun gradino che sono costretti a risalire carponi verso un obiettivo irraggiungibile vuoto e idealizzato dalla famiglia alla scuola d'infanzia dal liceo all'università o al lavoro tutto è costruito per schiacciare il pensiero individuale e per renderci schiavi inconsapevoli del vuoto gelido che gli umani hanno dentro nasci produci e crepa come direbbe Morpheus una prigione per trasformare gli esseri umani in una batteria ed in effetti in cult è proprio così Elisio è un mondo che non si può cambiare e che può solo peggiorare le guerre gli sfruttamenti le disuguaglianze sociali economiche sessuali tutto è programmato per ricordare all'uomo che non è altro che un animale un animale incaterato al desiderio di ciò che non può ottenere e che realisticamente non otterrà mai insegue il denaro il lusso la fede religiosa o politica la moda il sesso gli influencer colunque cosa pur di non guardare alla realtà del vuoto della propria vita una vita incatenata all'eco di un'insoddisfazione perenne da un odio verso il prossimo che colma di furore la mente e l'anima tutto per non lasciare che la consapevolezza inconscia di poter essere di più di questo divenga un ricordo e poi una consapevolezza di un remotissimo passato in cui in metropolis gli esseri umani erano veri e propri padroni dei veri dei svincolati dalla carne e dai desideri limitati solo da una mente che di confini non ne aveva ma voglio concentrarmi sul gioco in questo episodio sul gioco che si va a vivere nelle sessioni vere e proprie quindi anche sui personaggi e sui temi di una possibile campagna non scendendo in particolari o in esempi tranne forse un paio nelle descrizioni già dei personaggi o delle creature perché fare un esempio di una campagna di cult sarebbe come descrivere una singola specie di rane nel contesto della foresta amazzonica con la pretesa di dare un'immagine al tutto cult è un gioco che può essere giocato rappresentato a molti livelli su molti strati possiamo usare molti riflettori diversi per far vivere una storia ma sono le classi diciamo che il manuale presenta a darci una prima idea delle situazioni a cui andremo incontro nel gioco quindi andiamo a conoscerle quindi andiamo a conoscerle non tutte che sono veramente parecchie ma faremo degli zoom molto diversi fra loro proprio per dare l'idea della diversità di approcci e temi che si possono avere nei personaggi di cult e divinità perduta le campagne possono andare dal pulp horror al thriller psicologico dalle atmosfere estremolovecraftiane al body horror dal mystic horror alla caccia o fuga del mostro dalla possessione demoniaca all'urban fantasy dal modern horror al fantascientifico dall'azione all'investigazione un bel ventaglio mutevole insomma premetto un'ultima riflessione prima di avviarci fra le fosche sfaccettature di umanità immaginate per noi dagli autori alcune delle classi sono possiamo dire classiche cinematografiche addirittura quelle appartenenti ad altri gdr di investigazione o d'horror come il detective l'occultista il professore il prete l'agente federale il sicario il poliziotto eccetera ma molte altre invece cercano di suggerire una via meno semplice ma sicuramente più aderente ai temi del gioco classi a tratti difficili da inquadrare che richiedono un lavoro di medesimazione e che si rifanno a situazioni di vita sottilmente terrificanti cult accetta tutto nei suoi ranghi purché si parli nella maggior parte dei casi di personaggi spezzati o che abbiano spezzato irrimediabilmente qualcosa in se stessi o in qualcun altro si parla di persone complesse fuori se possibile dagli stereotipi e che vivono in contatto con la verità al di là del velo a tratti come una condanna a tratti come una liberazione da uno stato di perdizione di vuoto interiore o per soddisfare invece una fame insaziabile e bruciante di risposte agli enigmi e ai dilemmi che hanno distrutto vite sogni relazioni e desideri sono individui in cerca di un senso e di una verità e non sono quasi mai in realtà pronti ad accettarla una volta trovata in cult queste classi vengono chiamate archetipi e sono 25 veramente tanti sì per di più ciascuno è solo uno scheletro su cui costruire qualcosa di unico e definito dai temi che il giocatore vorrà esplorare durante il gioco di questi 25 solo 4 sono considerati illuminati dal risveglio ovvero già coscienti dell'illusione di elisio e che il mondo non sia altro che una prigione per dei pericolosamente creativi e passionali solo una però è il dormiente noi il 99% della popolazione mentre gli altri 20 archetipi sono pensati per avviare il personaggio al risveglio partendo da una base di terreno già in parte arato diciamo l'illustrazione di un ragazzo che tiene una borsa della spesa mentre guarda il cellulare con occhi spenti dice parecchio su come l'immaginario collettivo percepisce l'esemplare medio di dormiente il dormiente non solo non è affatto consapevole della verità dietro l'illusione del velo della prigione ma non è neppure consapevole del mondo in cui vive un dormiente appunto uno del tutto e per tutto collegato ed assuefatto a matrix per intenderci ovviamente prima di creare un gruppo sarebbe proprio il caso in cult più di ogni altro gdr credo di fare quattro chiacchiere intorno al tavolo per capire come costruire personaggi e gruppo assieme al narratore gli archetipi dei semi dormienti le 20 famose classe di cui abbiamo parlato poc'anzi abbiamo accennato poc'anzi partono con l'accademico ma scorrerò prima quegli archetipi un po' più classici qualunque cosa voglia dire e che in cult hanno finalmente l'occasione di esprimersi davvero e poi quelli un po' più originali possono essere cinematografici o romanzeschi come abbiamo detto oppure con un piccolo sforzo creativo diventare dei personaggi contorti disperati schiavi dei loro stessi talenti o passioni o turpitudini fino all'autodistruzione al sacrificio di se stessi o di ciò che hanno di più caro pur di sfiorare la verità che li terrorizza e al contempo li reclama dal profondo partiamo come abbiamo detto dall'accademico l'accademico è il professore l'esperto il ricercatore che grazie all'istruzione e alla fame di sapere ha intuito che nel corso degli eventi storici nella fisica stessa nelle parole dei filosofi o nei tomi degli esoteristi o dei teologi si nascondono come un filo conduttore una serie di elementi discordanti che fanno suonare le corde del dubbio nella sua mente febbrile e allenata campi di ricerca proibiti e immorali potrebbero ispirare personaggi spregiudicati e disumani oppure illuminati e all'avanguardia antropologi psicologi sociologi o altri studiosi del comportamento umano potrebbero essere scelte interessanti in questo caso per non cadere verso l'ovvia scelta di occultisti o simili senza che vi sia nulla di male ovviamente attenzione queste discipline permettono di scorgere il lato bestiale oscuro viscido e inaccettabile dell'essere umano la gente è quell'archetipo un po' idealista tosto o che è rimasto invischiato in indagini ad ampio spettro che l'hanno infine condotto verso il baratro della mente di un serial killer di cosche criminali o persino verso le alte sfere della corruzione governativa e corporativa la possibilità di entrare in contatto con creature terrificanti umani compresi littori o nefariti qui si fa concreta l'aver sfiorato o intravisto l'orrore può lasciare il segno nella gente o scatenare la disperata crociata verso la verità o il riscatto per se stessi o per un collega e amico fidato l'artista in cult può essere davvero una scelta interessante dal momento che arte è una parola che include una spaventosa mole di sfaccettature l'arte può ossessionare la propria arte è un geyser disperato di espressione che può arrivare a mostrare qualcosa di sé che non riusciamo ad ammettere neanche a noi stessi può essere la finestra socchiusa sui nostri sogni fatti durante notti agitate e sudate un quadro che un personaggio dipinge ridipinge potrebbe rappresentare una porta che negli anni incubo dopo incubo sia andata socchiudendo centimetro dopo centimetro assumendo dettagli sempre più vividi e spaventosi potrebbe essere dipinto durante la sonnambulia o in stato febbricitante da drogati potrebbe essere espressione di un dono sovrannaturale come la scultura o persino la poesia anche incomprensibile persino a personaggio stesso come se una parte nascosta di lui cercasse di far arrivare un messaggio da un recondito altrove di incoscienza il criminale è schiavo di pulsioni avidità o dell'incapacità di adeguarsi alle regole mosso dal desiderio di infrangerle di distruggere un ordinamento che disprezza e per farlo nuoce al prossimo o finisce per assecondare se stesso fino al punto di rottura cedendo a distinti brutali e bestiali o più sottili distorti e viscidi la droga dipendenza da alcol sostanze sesso o violenza dall'impossessarsi delle cose altrui o di percepire se stesso al di sopra delle leggi della società e dell'uomo fanno del criminale un archetipo interessante e pericoloso il detective potrebbe essere un Rustin Spencer Cole per chi ha visto la prima serie di True Detective a mio parere un piccolo capolavoro e un magnifico spunto tra l'altro che strizza l'occhio anche a Lovecraft e ai thriller investigativi con la T maiuscola il detective vive l'ossessione per risolvere un caso a cui dedica tutto se stesso a discapito di famiglia e della salute personale un'ossessione bruciante e disperata legata magari ad una visione cinica del mondo ne ha viste e sentite tante nell'ambiente fino a convincersi che là fuori possono davvero esserci porte verso l'inferno da cui talvolta cose malevole possono scivolare nel nostro mondo e lui potrebbe aver sfiorato questa o mille altre verità sconvolgenti al punto da farne un vero pilastro della propria esistenza cos'è che avevo detto non le guarderemo tutte e invece ci sto cascando con tutte le scarpe maledicendomi per tutte le cose che vorrei dire su questi personaggi X che mi sono venute in mente nel tempo pensando a cult in ogni caso abbiamo capito che ci sono archetipi più familiari e facilmente digeribili nel contesto con talenti fatti un po' ad hoc per il gioco ci sarebbe anche l'occultista in realtà lo scienziato il veterano il profeta ma sono gli archetipi come l'anima spezzata o la bambola ad essere originali e con alte potenzialità di turpitudine non vorrei entrare troppo in dettaglio regolistico ma ogni archetipo sia quelli visti finora che i prossimi non rappresenta solo quanto indicato nel nome dell'archetipo ma un insieme di categorie e possibili specializzazioni ad esempio nell'artista abbiamo il presentatore televisivo il reporter e il ballerino per dirne alcuni nel detective abbiamo esempi come l'investigatore privato l'hacker e il crittografo per la bambola abbiamo ad esempio porno star reginetta per concorsi di bellezza per bambini moglie trofeo innocente in carcere eccetera la professione di hacker ad esempio è ripetuta sia nel detective sia nel cercatore sia in altri archetipi questo è a testimonianza delle svariate sfaccettature in cui si può intendere una professione persino sopravvissuto agli abusi è una professione la scelta di svariati vantaggi come sesto senso contatti di strada notorietà parkour e svantaggi come infestato bugiardo nevrosi sessuale tossicodipendente eccetera amplieranno ulteriormente il ventaglio di opzioni per la personalizzazione e la scelta di uno o più segreti oscuri che ispessiranno diciamo ancora di più l'esperienza pregressa del nostro protagonista in cult segreti succosi come colpevole di crimini tornato dall'aldilà prescelto guardiano vittima di esperimenti medici vittima di crimini esperienza dell'occulto malattia mentale visitazioni sovrannaturali eccetera aggiungeranno una vasta pletora di occasioni temi mosse e situazioni davvero interessanti il tutto fin qui unito alla costruzione numerica del nostro personaggio tramite la scelta e l'incremento degli attributi ci fornirà il nostro alter ego in cult il manuale accompagna per mano il narratore nella presentazione degli archetipi e lo aiuta a presentarli ai giocatori leggerò la descrizione dell'anima spezzata per farvi un esempio di come il manuale stesso introduce questi archetipi e come essi intendono un intero modo diciamo di vedere di percepire il gioco e l'interpretazione l'anima spezzata ha visto il fondo dell'abisso con i suoi occhi questa tragica esperienza ridotta in frantumi la sua psiche tormentata potrebbe trattarsi di un senza tetto che incosciamente compie riti per placare dei dimenticati di un paziente psichiatrico che è diventato una cavia per esperimenti farmacologici o di un peccatore che è stato letteralmente trascinato all'inferno ma che in qualche modo è riuscito a fuggire facendo ritorno nel mondo dei vivi l'anima spezzata percepisce la realtà e vede altre illusioni e oltre l'illusione in modi che le altre persone non riescono ad immaginare il trauma subito l'ha danneggiata irreparabilmente ma in cambio ha acquisito la capacità unica di comprendere profondamente la verità il vero interrogativo è fino a che punto potrà affidarsi dei propri sensi ma leggiamo anche la bambola e il condannato va? la bambola rintanata nell'ombra la bambola è pronta la bambola lotta per la libertà per tornare ad essere di nuovo umana e cerca di assumere il controllo della propria vita mentre gli altri ambiscono a possederla ha vissuto una vita di sottomissione da emarginata prigioniera fenomeno da baraccone o trofeo albergano in lei un senso di vuoto e uno spirito tragico così come i suoi sogni pieni di speranza amore e felicità sogni che vengono puntualmente infranti il condannato il condannato ai giorni contati potrebbe trattarsi della sfortunata vittima di una malattia mortale o del bersaglio dell'accanimento di un potere superiore di solito tuttavia è stato proprio il condannato a votare se stesso al proprio tragico destino vendendo l'anima in cambio di gloria e ricchezze ora il tempo a sua disposizione è quasi scaduto e il condannato ha ormai capito che la sua vita stessa è il bene più prezioso che possiede non c'è prezzo che il condannato non pagherebbe per invertire la rotta del proprio destino anche se significasse dover sacrificare qualcun altro un gioco per famiglie insomma oltre ai personaggi il manuale di cult presenta diversi capitoli dedicati alla sola creazione di una storia di una sessione e di come gestire i vari elementi di una narrazione horror sovrannaturale e introspettiva nel mondo di gioco è molto evidente almeno secondo la mia interpretazione che sia al narratore che al giocatore sono richiesti degli sforzi in più nel pensare e indossare i personaggi nel creare gli snodi di una trama o nel curare la messa in scena di certe situazioni ed emozioni nel corso del gioco ci vengono presentati molti esempi di schemi concettuali per gestire una storia i suoi interludi i momenti più intensi e le rivelazioni inoltre ci sono schemi ed esempi di come creare una mappa concettuale fra i personaggi giocanti che ne riassuma i legami le relazioni voci da compilare e curare addirittura sulla scheda tra l'altro le relazioni e i segreti e le conoscenze in grado di metterli in relazione fra loro o competizione fra loro e il rispetto ai personaggi non giocanti e agli eventi scatenanti della storia che andrà sviluppandosi sessione dopo sessione non ci scordiamo mai che i temi e le atmosfere di cult e divinità perduta sono molto adulti e possono toccare corde sensibili e scoperte nei partecipanti al gioco anche per questo aspetto il manuale aiuta a gestire e a presentare se stesso per evitare che una certa scena o narrazione possono andare a guastare il divertimento e la convivialità del gioco di ruolo attorno al tavolo tramite una frase o una parola la scena potrà essere arrestata o immediatamente trasformata dal narratore che dovrebbe avere in forma anonima una serie di argomenti non graditi ad uno o più partecipanti più vado avanti in questo episodio e più mi rendo conto che la parte regolistica e del sistema si meritava un episodio tutto suo ma come si suol dire senza se e senza ma purtroppo però i tempi sono questi siccome io comunque sono un cialtrone e non amo dilungarmi nei sistemi regolistici ve riassumerò il sistema power by the apocalypse mortificandolo e riducendolo in poltiglia insipida come segue il motore di questo sistema è la mossa ovvero un'abilità descrittiva contestuale o attiva in grado di far interagire il giocatore o il narratore gli universo e gli altri o rispetto al mondo di gioco le mosse possono attivare conseguenze regolistiche basilari come la perdita di punti ferita o saltare oltre un ostacolo oppure possono avere esiti narrativi e scenici come il potere o meno usufruire di capitali alleati influenze sociali su terzi o talenti doni personali le prove si effettuano tirando due dadi da sei facce aggiungendo o sottraendo bonus malus derivanti dagli attributi o da altri fattori influenti se si ottene un risultato che va da 15 in su allora quanto desiderato dal giocatore avrà successo alla perfezione da 10 a 14 avrà successo ma con una complicazione da 9 in giù la prova è considerata fallita ogni tipo di mossa specifica quali siano le conseguenze di uno dei tre risultati riguardo ad essa dando vita a scene più dinamiche e imprevedibili una mossa come affrontare un combattimento facciamo un esempio molto banale avrà i seguenti epiloghi risultato di 15 o più il personaggio colpirà l'avversario con la sua arma e infliggerà il danno 10 14 colpirà l'avversario ma a sua volta potrebbe subire qualche danno superficiale scaricare l'arma subire un contrattacco o meglio una contromossa magari da parte dell'avversario esporsi ad un nuovo pericolo o perdere un oggetto importante con un risultato fallimentare di 9 o meno non solo la mossa del giocatore l'attacco nel nostro esempio non avrà successo ma il narratore potrebbe innescare una mossa da parte del nemico del contesto o dell'ambiente infliggere un pesante ammontare di danno il narratore farà lo stesso impiegando le mosse delle creature e quelle ambientali quando sarà il suo turno calto non è certo un gioco eroistico qui le pallottole bucano le collisioni uccidono le cadute mutilano e le malattie mentali non sono solo punti sanità che sfumano ma ci può essere anche spazio per l'azione se si desidera implementare anche questo aspetto nella propria narrazione i personaggi sono vari e diversificati passando dalla potenza di fuoco e di combattimento del Ronin o del veterano sono due archetipi utilizzabili alla capacità di influenza o seduzione del lobbista o della bambola in ogni caso secondo me è bene puntare le proprie energie verso altri lidi più inerenti allo spirito del gioco ma questi sono gusti personali ci sono 25 archetipi 6 mondi dozzine di creature decine di mosse 20 frar conti angeli della morte e l'intero apparato narrativo umano horror thriller fanta horror dark cyberpunk psichedelico body horror urban horror terrore cosmico storico antropologico terroristico di cronaca nera Chuck Palahniuk Irvine Welsh Cronenberg scusate e mille altri contesti da cui pescare senza contare cosa può venire fuori mischiando e cucendo fra loro alcuni di questi sottoboschi narrativi e di idee ma tutto è contestualizzato e costruito in modo che ogni scelta tiro fortunato sfortunato azione e decisione mossa e contromossa siano incisivi e che i personaggi possano sempre cambiare e influire in modo effettivo e significativo sul corso della narrazione e sul mondo circostante interagendo con l'orrore con l'umida visceralità corporea ed emotiva del loro animo e di quello di ogni altro personaggio giocante o non giocante si può impostare il gruppo di gioco davvero come vogliamo includendo azione introspettiva psichedelia malattie mentali azioni depravate e criminali sesso carneficine apparizioni possessioni religione e mille altri questo può esaltare e al contempo confondere ma bisogna tenere sempre a mente che caldo è un gioco cangiante multiforme che sarà quasi impossibile giocare e rigiocare nel medesimo modo e affrontando sempre la solita minestra siete stanchi e stanche di sentirmi cianciare lo so sono stanco io di sentire me stesso l'episodio è molto lungo sarà divertente rimontarlo infatti non vedo l'ora ma c'è anche molto da dire se ritorniamo sull'ambientazione dai ragazzi ragazze tenete duro ci siamo quasi siccome ho detto che avremmo parlato di Elisio parliamo di Elisio il nostro orribile mondo in cult quello delle guerre delle cronache di violenza martellanti della fame e delle guerre civili quello dell'ipocrisia disgustosa e bugerda della televisione quello delle paranoie e delle turbe innescate dal consumo dei social e della pornografia quello della pazzia che lentamente trasforma una società apparentemente civile ed organizzata in una massa di individui soli e scollegati decontestualizzati che nemmeno si accorgono di morire ogni giorno un turno di lavoro alla volta Elisio non è solo nichilista ignorante insensibile deumanizzato e deumanizzante nella modernità ma è una cella per la nostra mente e la nostra anima dietro le sue sbarre dorate si aggirono i mostri essi arrivano dai mondi reali da metropolis da inferno da Gaia e dal sottomondo Echi giungono dei regni dei sogni di limbo mentre individui isolati o uniti in sparute e pericolose logge sfruttano e manipolano il prossimo uccidono e innescano spirali di corruzione depravazione e violenza allo scopo di ingraziarsi i favori di littori o nefariti di invocare creature mostruose per sfruttarne i poteri o per indirizzarle a pro dei propri fini inconfessabili oppure sono proprio gli esseri gli abitanti di quei mondi a irritire uomini e donne vecchi e bambini in modo tale da renderli servitori o strumenti per commettere atrocità e nefandezze tali da non poter essere elencate a voce alta ma essi camminano in mezzo a noi dei sfuggiti alla distruzione di metropolis o dalle prigioni di inferno trovano rifugio e scampo dominando i nuovi templi del sacrificio umano come le autostrade o i cantieri di costruzione le miniere del terzo mondo potenti lettori cercano di tenere insieme la struttura sfissiante della società in deferimento e in disgregazione dalla scomparsa del demiurgo cercano di tenere insieme il concetto di religione e di economia filtrando e intrappolando in ospedali e manicomi coloro che riescono a schiudere gli occhi per osservare la verità celata oltre il velo nefariti scarnificati ordiscono danze macabre in cui infanti e fragili d'animo vengono torturati e stuprati dai serial killer o nei rifugi di sette e terroristi ecco come il manuale presenta Elisio l'Elysio è il mondo che conosciamo è tutto ciò che vediamo intorno a noi leggiamo e sperimentiamo quotidianamente è il mosaico di nazioni compagnie religioni e ideologie che formano la società umana da tempo abbiamo ormai abbandonato la natura incontaminata e oggi risiediamo in città in continuo sviluppo chi rimane in campagna osserva gli estranei con uno sguardo sempre vigile nei paesaggi urbani tutti sono anonimi nelle moschee nelle chiese nei templi gli uomini mantengono vivi i sogni che riguardano il divino ma in molti altri luoghi la sacralità è stata abbandonata le squadre di calcio e le star di youtube sono i nuovi dei dell'umanità i politici i despoti e i regimi più severi stabiliscono le dinamiche della nostra vita quotidiana laddove la legge e l'ordine hanno terzo valore la nostra esistenza degenera in guerrigli e conflitti antiraziali le nazioni le nazioni sono divise le famiglie distrutte i sopravvissuti non torneranno mai più quelli di prima kamikaze terroristi e paladini della libertà si imbattono in droni dell'esercito e mercenari prezzolati delle multinazionali le ideologie vengono plasmate a distanza da sale di controllo e algoritmi di dati imparziali tutto intorno a noi e tra le nostre file i nostri carcerieri e i loro fedeli servitori continuano a vegliare attenti e spietati voglio leggervi il capitolo quello che non possiamo vedere di elisio è come uno spaccato una sequela di fermo immagini di ciò che si nasconde agli occhi del dormiente ma che accade ogni giorno c'è un mondo oltre alla realtà dell'elisio nelle lunghe ombre della città esiste un'intera civiltà di abitanti fantastici e terrificanti in bar fatiscenti della periferia di Barcellona i maghi del sogno si incontrano per giocare partiti a scacchi in cui ogni mossa rivela alcuni segreti del limbo creature dall'anima spezzata vagano per le autostrade dell'America del Nord sotto ponti e viadotti ferroviari fanno l'amore con passione si crociolano nel bagliore dei semafori e con lo sguardo affamato cercano nuove prede e mettono lamenti nella notte mentre raschiano il sangue dall'asfalto inalano i gas di scarico graffiano il cemento e la calce con i loro artigli d'acciaio dominati dalla volontà degli angeli della morte nel cementerato dell'ospedale vittoria di rio alcuni scienziati conducono esperimenti per riuscire a spezzare le catene dell'illusione i figli della notte vivono tra i tossici di eroina sotto i ponti di Londra bevono sangue da aghi ipodermici arrugginiti e sacrificano teste di bambole imbrattate di grasso al littore nero dell'ospedale psichiatrico di Sandburg nei ristoranti di lusso di Firenze i littori bevono vini costosi da alti calici di cristallo la superstar si lascia profanare da qualcosa di spregevole alieno in una stanza d'albergo di città del Messico nel disperato tentativo di conservare il suo bagliore creativo fuori i fanni invasati urlano il suo nome la messa solenne raggiunge il suo apice il seme divino viene sacrificato qualcosa va a caccia tra i vicoli del centro di Praga si nasconde tra le scalinate buie e si arrampica su per le facciate chi vive nel quartiere sa cosa succede i residenti camminano verso il portone di casa sempre a testa bassa non si fermano non guardano nessuno e non rispondono alle domande talvolta si riesce a intravedere l'orizzonte di Metropolis che sovrasta la città torreggiando come una fila di montagne nere dopo uno stupro di gruppo nella casa di riposo di Windsor un'anziana dà alla luce un essere dal di là della morte il tubo del catetere le viene strappato come un secondo cordone umbilicale mentre la bestia striscia via e si fa strada tra le miniere di sale al di sotto della città alcuni giovani di Salt Lake City si riuniscono di fronte alle tombe dei suicidi stringendo patti con i fantasmi ora riescono a vedere aspetti della realtà che per gli altri sono invisibili hanno barattato le loro vite per un frammento di verità resta loro da vivere quattordici giorni prima di reincarnarsi un corpo giace senza vita per più di 24 ore dopo un overtose letale per poi rigenerarsi grazie al tocco di togarini con i segni delle punture i pantaloni sudici e la faccia tumefatta José vaga fra le case popolari di Caracas alla ricerca di un diverso tipo di dose gli annunci su metro hanno significati nascosti proprio lì potremo trovare messaggi in cui si scambiano manufatti con esseri di incattività sette che cercano nuovi seguaci e sogni di estati dorate e tranquilli cieli invernali venduti in cambio di favori apparentemente innocenti una bambina canta nella stiva di una nave arrugginita a largo della costa della Somalia la melodia risuona in tutto lo scafo raggiunge le nuvole i freddi crateri lunari e propaga un eco tra gli anelli di Saturno la piccola sfida la realtà e scioglie le catene dell'illusione le guardie eseguono ulteriori riti per impedirle il risveglio creature storpi e trascinano esploratori solitari nei tunnel bui della rete metropolitana di Mosca alcuni soldati studiano i filmati sgranati prendendo scoprolosamente appunti su tutti gli scomparsi e seguendo con discrezione quei pochi che ritornano inni tetri si levano dai tombini di Kiev cantati dalle creature del sottomondo i veterani di guerra lasciano loro delle offerte in alcol e sigarette all'interno del canale sotterraneo vicino alla centrale elettrica nella residenza milanese della fashionista alcune modelle mutilano i propri genitali con bisturi e lamette di fronte a Tiffany Reeder per niente colpita da questo bellissimo atto euforico si limita ad accavallare le gambe e accendersi l'ennesima sigaretta nel centro di accoglienza per i fusati di Göteborg il drappo di velluto è spiegato e lo specchio di rame è pronto colei che attende di sotto propaga il suo pensiero e di notte si fulminano tutte le lampade permettendo ai fantasmi di fuggire dai meandri del suo labirinto io ve ne ho lette una manciata ma ci sono pagine di questi piccoli paragrafi ciascuno in grado di sussurrare poter far immaginare la struttura forse di un'intera campagna o di tante 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 sessioni con tematiche molto diverse persino nella rete in Elisio si annidano utenti non umani esistono non luoghi senza dominio e complessi rituali sono descritti fra strani ed inquietanti glitch mappe di luoghi e strani accessi si possono trovare nei messaggi criptati o nelle stringhe di codice senziente anche qui un'intera campagna potrebbe essere volta alla scoperta all'incontro e alla cacciata di un dio che infesta la rete come se riesco a pronunciarlo bene la Eneibsa l'analogico o asvienai la digitale lui è ciò che era e lei è ciò che sarà oppure indagare e risalire all'influenza del dio barattatore che vive in mezzo alle montagne di spazzatore immondizia nelle favelas o nei campi profughi permanenti nel terzo mondo o il dio delle autostrade che vive nei caselli e nelle piazzole di sosta dove la gente muore o viene spinta a guidare il proprio autocarro contro senso per pagare la realizzazione di un desiderio o per espiare colpe egli esiste su tutte le autostrade del mondo può viaggiare in un istante portando con sé chiunque voglia può condurre i personaggi in metropolis o in qualsiasi altro luogo anche se il prezzo sarà sicuramente alto Persephone l'araldo della violenza il senza occhi la predatrice addormentata nomi bufonchiati dai clochard dal lato della strada dai drogati di Matt che barcollano come zombie storie di sagome e divisioni impossibili nei vicoli e nelle discariche a cui nessuno crederà accenni murales alla fermata del tram strane mappe e ritratti terrificanti a bomboletta sui mattoni nel retro del club altari votivi ricavati nei cassonetti sventrati cheeseburger e topi squartati lasciati come offerte agli dei che sono fuggiti in lisio attratti dalla passione dei suoi abitanti affamati di luce e rumore musica paura e sottomissione alcuni umani illuminati risvegliati imperversano nella notte in forma di nosferatu abitano attici abbandonati vivendo dei nuovi poteri che hanno acquisito si nascondono dai lettori e dai loro servi dormienti un po' come fanno i risvegliati di Matrix dagli agenti dai loro sottoposti umani legati a Matrix lo ripeto molto spesso ma in questo caso Matrix è molto calzante per fare esempi secondo me il fabbricante di chiavi personaggio appunto di Matrix l'oracolo gli agenti i gemelli spettro il merovingio eccetera possono dare l'idea di ciò di cui stiamo parlando anche se andrebbero spruzzati ovviamente di tinte decisamente più fosche misteriche horror e urban thriller in tutto questo la prigione sta perdendo consistenza le sue inibizioni si fanno meno oppressive ed efficaci scorci di metropolis porte su inferno accessi al sottomondo sono più facili da trovare o si manifestano più frequentemente che in passato i maghi i cultisti o i risvegliati sono più attivi la loro influenza contribuisce a destabilizzare la creazione del demiurgo e dei suoi arconti è un mondo di caos scalmo che sotto una superficie di ghiaccio grigio crepato e sempre più instabile nasconde un'infinita moltitudine di leggende metropolitane storie di sofferenza e perdizione personale fatti incredibili che solo i folli o gli abitanti dei confini della società possono vedere e tutto urla di sgregazione e orrore ho accennato a Gaia limbo e sottomondo sono gli altri tre mondi presentati in cult mondi reali non voglio sviscerarli perché come già vi dissi negli episodi precedenti meno si sa di cult e qualcuno mi odierà per aver comunque già detto troppo in ogni caso meno si sa meglio è basta sapere che i principi del sogno di limbo sono individui in grado di creare e regnare su veri e propri mondi onirici da loro stessi plasmati più o meno cosciamente i principi del sogno possono legare al proprio reame altri sognatori o rapire dormienti in elisio fino al punto da influenzare la vita dei sognatori o il mondo reale con gli effetti del proprio mondo onirico una volta che tanti sognatori sono legati insieme in quest'unico mondo potrebbe bastare per farci un gioco di ruolo solo questo aspetto mi mangio le mani ma basta così sul limbo Gaia è sia un mondo sia un intento quello di spazzare via la civiltà è la natura che prende il sopravvento sono gli animali che invadono case luoghi e centri abitati è il crollo delle comunicazioni e l'isolamento edifici inghiottiti dalla vegetazione possono nascondere un accesso a questo mondo dove la vita assume aspetti talmente estremi da essere impensabili agghiaccianti non è soltanto foreste o giungle permanere in Gaia troppo a lungo potrebbe mettere incinto un uomo di un'amalgama di creature differenti trasformarlo in bestia o in parte di bestia vedi il film Annihilation per farsi una vaga idea il sottomondo è l'infinito intrico di tunnel passaggi gallerie fognature metropolitane che collega le città fra di loro in elisio e che si allunga in modo innaturale in tutto il sottosuolo fino ad andare ben oltre il credibile il possibile alla fine di quell'assurda profondità semi artificiale si nasconde colei che attende di sotto la fine di ogni cosa i figli del sottomondo rapiscono bambini e individui attraggono i perduti e i disperati verso un intero mondo sotterraneo di creature templi tane artefatti e macchinari impossibili va bene basta così non avete idea di quante altre cose di quanti episodi potrei ancora fare per affrontare anche solo una parte del non detto ma sono veramente sfiancato ormai da calte secondo me anche voi mi scuserete per imperfezioni catastrofi grammaticali o un montaggio un po' disperato ma insomma siamo andati lunghi e sicuramente riascoltando l'episodio mi batterò il petto ripensando a quello che avrei potuto aggiungere ma forse è stato proprio il caso di non farlo concludo dicendo che non ho mai letto un gioco dagli orizzonti così vasti e mutevoli in ambito moderno e horror certo uno potrebbe dire è veramente deprimente come gioco è un aspetto del gioco di ruolo è un aspetto anche dell'immaginazione se ci pensate anche della narrativa dei romanzi dei film spero che siate ancora svegli e sveglie per questo episodio è tutto per qualsiasi domanda potete scrivermi su instagram facebook youtube mail piccione viaggiatore messaggio onirico insomma siate creativi e creative un saluto da moidartgm e che gli dei esoditi di elisio veglino sui vostri tiri di dado alla prossima ciao iscriviti A presto. A presto.